Un incendio divampato nella mattinata di mercoledì 31 agosto intorno alle 6.30 presso un cascinale situato sulla strada che da frazione argentera di Riva Rolo Canavese conduce a Riva Rossa. Le fiamme hanno avvolto circa 200 rotoballe di fieno accatastate in una struttura. Una grossa colonna di fumo nero visibile a grande distanza si è levata in cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vrea, Volpiano, San Maurizio Canavese e Bosco Nero che hanno domato e spento le fiamme per poi procedere con l'operazione di smassamento.